Chiari amici, buongiorno, benvenuti a questo consueto appuntamento editoriale. Ho lasciato passare ancora una volta qualche giorno in più per cercare di riassumere quelli che sono gli eventi che hanno contraddistinto appunto quest'ultimo mese, mese e mezzo di pesca nel nostro paese. In particolare voglio fare riferimento all'eccellente convegno che si è tenuto il giorno 12 a Passignano sul Trasimeno, organizzato dalla Bus Division, è decisamente molto molto partecipato, un evento organizzato per cercare di raccontare quale può essere veramente l'indotto economico portato dalla pesca sportiva ricreativa in un lago come il Trasimeno che potenzialmente potrebbe essere uno dei bacini sicuramente più importanti d'Europa per quanto riguarda la pesca, ma che purtroppo subisce l'offesa da sempre delle reti e delle cooperative pescatori che utilizzano il lago per i loro business, per i loro affari. La mia conferenza in particolare non voleva certamente essere indicare una strada per ribaltare questa situazione, ma dare sicuramente delle indicazioni di massima per far capire come la pesca sportiva sia un movimento enorme di dimensioni, ma enorme anche come impatto economico. Portato dei numeri, numeri che non sto qui a sintetizzare, ma che presenterò in un articolo dedicato sempre sulla rubrica News di questo blog, perché vorrei che tutti prendessero visione di quanti sono i pescatori in Europa, quanti sono in Italia, che giro e che volume d'affari si sviluppa, quali e quanti paesi abbiano deciso di impostare una parte dell'attività turistica nella pesca sportiva ricreativa e con risultati, quali risultati. Faccio riferimento in particolare all'Irlanda che nel 2012 ha deciso di estendere, allargare il proprio turismo alla pesca, anzi farne un nodo, un perno centrale. Questo perché? Questo perché le nostre acque subiscono le reti, reti che sono completamente ingiustificate o meglio, possono essere giustificate in taluni bacini, come può essere ad esempio il Trasimeno, come può essere Bolsena, come possono essere i grandi laghi subalpini, non lo sono assolutamente in tutti gli altri luoghi in cui invece la pesca potrebbe diventare un punto di riferimento importante. Mi riferisco appunto alle dighe idroelettriche, ai bacini idroelettrici, come possono essere Salto, Turano, Campotosto, per citarne alcune, i bilancini e quant'altro. Dove tra l'altro si sta verificando una cosa molto interessante, perché la Federazione Italiana della Pesca Sportiva sta prendendo in convenzione tutta una serie di acque per cercare di richiedere quel tessuto, quella rete di acque in cui poter praticare la pesca sportiva. Nella maggior parte sono campi gara, ma è un passo in avanti. Il problema semmai è che queste acque vengono a volte suddivise, condivise con utilizzatori di reti, faccio l'esempio del Turano e del Salto. Quindi forse è il caso di cominciare a ragionare nello spostare completamente queste attività, bloccarle, proibirle o in modo molto più democratico riconvertirle. Riconvertire significa che chi usa le reti oggi domani utilizzerà quelle stesse imbarcazioni per portare la gente a pesca facendo da guida e fungendo allo stesso modo da sentinella, guardiano delle ricchezze del lago, per la lotta contro il bracconaggio, perché le stesse acque sono anche soggette al bracconaggio. Il titolo bracconaggio? Bacchiglione, fiume bellissimo, depredato da quattro bracconiere che sono stati colti con le mani nel fatto. Nel sacco, chiedo scusa, hanno lasciato le loro attrezzature di morte sul terreno assieme a qualche quintale di pesce, sono scappati, verranno forse identificati, tanto si sa chi sono, perché sappiamo tutto dei bracconieri chi sono e basterebbe un attimo andarli a prendere e mandare via. Le punizioni non riescono ad essere esemplari, il nostro sistema non è in grado di fronteggiare questo tipo di minaccia, c'è troppo buonismo, con il risultato che il nostro patrimonio è completamente o quasi distrutto e a poco valgono tutti i nostri sforzi, tutto il nostro chiacchierare, tutto il nostro fare, muoversi, riunirci e fare convegni, cercare di essere presenti sul campo con l'eccezionale opera dei volontari, quando poi dall'altra parte non abbiamo né leggi né controlli sufficienti a garantire il benché minimo limite di sicurezza di controllo, per cui fanno quello che gli pare. È una strada in cui ci siamo abitati, non so quando ne usciremo, non so se ne usciremo ed è molto desolante quello che sta accadendo nelle nostre acque, fanno ciò che vogliono del nostro territorio e sottolineo del nostro territorio perché sono cittadini stranieri. Detto questo, a costo di sembrare un pochino anti-europeista, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie. 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 Grazie.